Nel tempo della grande crisi, i precari erano costretti a lottare per pochi abbonamenti gratuiti. Ma tra loro sarpeggiava un dubbio. Ma veramente non ho capito bene perché dobbiamo affrontarci. Così, decisero di unirsi per una trovata insolita. Tutti abbiamo diritto alla mobilità. Un'interpretazione abominevole. Ma il messaggio colpì decisamente nel segno. E fu fatta una promessa. Facciamo così. Un film di Perol in casa, con Lero Sciarpa e Cerina Sparo. E con la partecipazione straordinaria di Giuliano Pisapia, del coro di Sbrona Caglie. Una produzione che ha l'intento di ottenere molto di più.